Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Vediamo questa band and col tempo, ormai sono passate più di due settimane Vediamo se ha avuto un impatto che... Un impatto che... Noi ci immaginiamo una cosa, ovvero a go go determinati tipi di deck Però non vedo già un ritual beast, un cash tier, che effettivamente potevano essere dei deck Che si potevano rialzare per quanto riguarda il livello Dato che gli altri sono stati affostati tralasciando il più forte Quindi potevano dare un qualcosina in più Ma vediamo, prima di iniziare, come sempre ragazzi, vi invito a iscrivervi al nostro canale Per rimanere sempre aggiornati Ricordo che l'iscrizione è giunta tantissimo e vi ringrazio Detto ciò, partiamo Riturbis Castira, Yubel Sprite Veterans Voice Tra l'altro poi se l'essere non è che ultimamente si stia facendo vedere troppo Quindi abbiamo un ritual beast Yubel, vediamo come gioca Sprite con Fismith Castira e ritual beast Addirittura a Castira mi sta diventando socialmente simpatico Allora, vabbè, ritual beast Con Nemesis e Protoss Eh, ti devo dire, in realtà questa lista è molto lineare e mi piace abbastanza Perché 44 cart ok, però Va bene E poi va bene, non lo sappiamo Ammazzo che gioca anche di bannate Che non ha determinati once per turn E comunque fa le sue cose, lo sappiamo Ritual beast comunque era uno dei più forti Era più forte che sarebbe uscito comunque da Terminal Revenge E ha confermato di essere più forte Anzi, qui tra l'altro Borelod, signori Borelod Quanto viene? 175? Ti devo dire E tanto questo lo ristampano Quindi dovrebbe costare di meno E questa costicchia, questa costicchia Vabbè, sono le carte main del mazzo E c'è tanto che non siano a 30 euro l'una Però ti devo dire Per essere un mazzo abbastanza competitivo 180 euro, quasi 200 Tanto forse non è neanche così troppo elevato Poi Per quello che gira Fismith, Yuval Allora, Fismith, Yuval Aumentando il numero dei bestial Ovviamente Questa è solo la prima che vediamo Mono per forza di cose di lei Fismith, va bene Revortino Fismith E va bene Cesar per forza Super Poli C'è anche Reganed Ok, ci sta Anche perché comunque Ti permette anche di pescare Fantasma Fismith Ok Prendiamo questo qui Fismith Sprite Ovvero Vai a giocare il repartino nimbo là Anche per andare un po' di extender Più il repartino Fismith Che tanto ti fa fare sempre qualche cosina Quindi c'è sempre se sei in campo Devo dire che ho molto sottovalutato questa qui Quando usci Non molto sottovalutato In realtà invece è fortissimo Per quanto riguarda ovviamente Il reparto Fismith Ok 600 No 452 euro Quindi devo dire che 452 euro Insomma Che facciamo con 500 Perché non c'è l'euro di questo qui Forza un po' troppo per giocare Sprite Anche perché comunque Sprite pure senza Fismith Qualche cosina di buono l'ha fatta E sul cash tira Che non dovrebbe cambiare troppo Sì effettivamente Effettivamente non cambia troppo 3, 6, 9, 1 Vabbè Va magari a mettere un po' più di HT Perché comunque abbiamo una pot Prosperity In meno Attenzione C'è uno Sky Striker Asella Temperance Vuole un link Va bene È fattibile Se viene evocato la sperimentazione Bandisce una magia Dalla mano cimitero Ok Va bene Si può essere una carta Che può dare parecchio fastidio Potrebbe dare parecchio fastidio Ovviamente poi Decode Talker It's all Altrimenti Vediamo Adesso Cassino Bene Bene Poi abbiamo il ritual beast Che ha vinto Vediamo Gioco 42 carte Dove meno rispetto a quello di prima Gioca un mono Veler Un mono Murner Un mono di piru Anche per avere determinati target Per cross out Pure Va bene Gioca In emesis Ma non gioca protos Di main E non lo va a giocare neanche di side Quindi Va bene C'ha Ovviamente questi extender qui Tra l'altro Va bene Va bene Va bene Va bene Perché comunque ti consentono Di fare Un sacco Cioè Fare un bel po' di roba Comunque sono due carte molto forti Che Si sono alzate parecchio Effettivamente Però chissà se con Crossover Breakers Insomma Vanno a ristamparlo Perché c'è appunto Il protos Ok Ma andiamo a vedere Coppiapo Allora Snake Eye Va bene Abbiamo uno Snake Eye Un White Forest Runic Vediamo come ci sono L'Iceborn Va bene Con Grass Un piccolo ritorno Ci potrebbe stare Tempai Memento Yubel Yubel Va bene Snake Eye Non cambia niente Più o meno Ah però questo è uno Snake Eye puro Senza Fismith Almeno abbiamo Tra virgolette Il fatto di non giocare Con l'engine Va bene Doppio Anima Doppia mascherina Doppia princess Va bene Una monocuricara Un double poke Comunque non si vedeva Una lista Snake Eye pura Che gioca anche la silhouette Insieme al rabbit La trappolina Quella Che è uscita insieme a lui Perché di solito Si gioca sempre Surune Va bene Per quanto ormai Il deck Non è che Piaccia Cioè Per quanto È diventato un po' Stantivo Diciamo che Almeno una versione Un po' Vecchietta Diciamo Questi sono sempre Extender Molto forti Tra l'altro Questo È un piccolo engine Che può essere utilizzato Anche per altri deck Non solo Esclusivamente In White Forest Però White Forest Ha trovato una sua dimensione Che non mi aspettavo Sinceramente All'inizio del Non me l'aspettavo Per niente Che White Forest Andasse a giocarsi Con I toy Cioè Tutto tranne quello E va bene Si lo ha detto Ok SP Un bel repartino Sincro Pure questa Finalmente ha trovato Lo spazio Perché non era male Come carta Effettivamente Ma andiamo Altragata La mano Field Al greyhard Spacchio Maggio Troppo Nelloppo E ci consente Di fare Sincro Durante il turno Avversario Sincro Turno Avversario È sempre una bella cosa Quel doppio regge Che mi piace Particolarmente Tanto Poi Stanner Unic Non dovrebbe Cambiare Più di tanto C'è Ovviamente A Sì Skill 3 Doppia Sincro Zono Ovviamente E come dicevamo Poteva essere utilizzato Tanto Il repartino Dogmatica Per fare Robina Mandare roba Dall'extraec Al cimitero E triggerare Altri effetti Quindi Va bene Ok C'è La fin fine Ancora Giocabile Prosperity Qui È un peccato Diciamo Però Il mazzo Comunque Mi riesce a pescare Quello che serve Anche con la fontana Quindi va bene Avere una sola Prosperity Potrebbe comunque Essere utile Al mazzo E Thunder Dragon Horus Beastial Iceborne Oh mio dio No Per quanto Possa essere Apprezzabile Il fatto Che viene Giocato Anche Iceborne Per me È troppo Per me È troppo È troppo Cioè Magari È fortissimo Anche Perché sicuramente Hai modo di ripartire Hai modo di fare Un sacco di roba Anche Hai anche Sacrificio Il braccio sinistro Che effettivamente Ti consente Di aggiungere Una magia Al limite Se ti serve Fai grass E ti Immagini Mi ti ammazzo Quasi Quasi Una ventina di carte 15 Quindi ti vai a Buttarle via Insomma Immaginarle Ringrando tantissimi Effetti Quindi voglio dire Abbiamo anche Thunder Dragon Tra l'altro Devengono banditi Fanno robe Quindi Bandirli anche Per Left Arm Offering Non è neanche Come sono Pregnish Offering Che sicuramente Ho detto anche male Però va bene Aiuta comunque A far partire Determinati De effetti Quindi non è neanche male La struttura del deck Solo che io Quando vedo queste cose Non Non riesco Non è ovviamente Niente contro nessuno È una cosa mia Tenpai Dragon Allora Vediamo come è stato messo Perché comunque Si Sun and Summoning Ok Una Kaio Di main Ok Sto pensando Perché effettivamente Se Il costo È relativamente 176 No Perché di solito Giocano anche Trust Perché al limite Ti consente Di andarti a prendere Terraforming Per fare Sun and Summoning No Però va bene Dovrebbe andare Comunque bene Serve sempre Riuscire a prendere La terreno Il prima possibile Ovviamente Fismith Memento Che gioca anche A Popis Quindi sono particolarmente Contento di questa scelta Metal Tronius Decide Ok Riporto Fismith Va bene Non è cambi troppo Va bene Mi piace anche Questa doppia combinazione Perché effettivamente Negra in base alle carte Trappola Continua Che controlliamo Questa lo utilizziamo sempre Fa un altro Negate Buono Quindi fa il minimo Almeno un Negate Lo fa Il minimo Cioè al massimo Ne puoi fare due Il che è interessante Può essere interessante Ok Se gioca anche queste qui In realtà decide Quando serve Puoi fare Un digit Ancora più importanti Fismith Yubel Ok Va aumentare sempre Il nome dei mostri Ok Non gioca La Summoning Beast Ah no Eccola La Beaconic Beast Eccola Scusa Non l'avevo vista La gioca ovviamente In due per Ormai si Sesta sul due per 3 forse no Perché 3 Diventa Troppo Stantia Nonostante questa Comunque Rimanga uno Va bene No ci può stare Comunque Fismith Yubel Rimane Uno dei mazzi Più forti Comunque Avere una limitazione Di questa Ok E' Po' pesantino Diciamo Però consente Comunque al mazzo Di fare tantissime cose Fismith Insomma Tanto Ti dà Comunque Una partenza Poi se il mazzo Viene bloccato Quindi Si può dire Che si sta a posto Ok Bene Poi Un Fire King Questo Si l'abbiamo visto No Abbiamo un Fire King Snake Eye Vi devo dire Snake Eye Ce ne stanno pochi Cioè Snake Eye Fismith Cioè Non abbiamo visto Nessuno Abbiamo visto Solo uno Snake Eye Un Fire King Snake Eye Che si Si ritorna un po' All'inizio Del meta Di quando uscino Silhouette Rabbit Va bene Va bene Vi devo dire Poi abbiamo Tempai Yubel Voiceless Memento Yubel Ritual Beast Ritual Beast Qui abbiamo Tempai Memento Memento Si conferma Va bene Non mi confio No Questo è senza Fismith Quindi Bene Ah Un Snake Eye L'abbiamo trovato Uno In 3 eventi 4 4 eventi Ce ne sta Uno Va bene Tempai Ok Sicuramente poi Oppena esce Fubalos Ci sarà Fubalos Di Mena Assolutamente Power Filter Ok Regge Dark Hole Vediamo questo Memento Mi piace Mi piace Mi piace Perché va bene Memento puro Va a giocare Quello che serve Sempre 3x 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 Mono Tutti gli altri Questi vanno anche da HT Quindi va bene Mono Grosso Doppio Droll Triple Ash Mono Di Miro Mono Di Piro Potrebbe essere utile Anche a noi Per fare un cross out Perché abbiamo Diversi target Per un po' Tutto quanto Abbiamo Modi Per Comunque Negare Anche con Silhouette Rabbit Ok C'è l'interruzione Ragazza Trappola Normale Rinforzi Per L'Amo Oscura La fusione Va bene One for one Perché almeno Comunque Ci evochiamo Quelli piccolini Bene Mi piace Mi piace Mi avrei messo Anche Magari Forse Design Della Popis Perché Comunque Ci sono Un sacco Le carte Trappole Di Si poteva Utilizzare Ok Abbiamo Diversi target Per fusione Che Fondamentalmente Si possono Fare tutti Perché Dobbiamo Utilizzare Di memento Però Possiamo Comunque Evocare Questi qui Quindi Non vedo Perché No Tre mostri Novi Differenti Ti devo Dire Questo Memento Peccato che è salito L'avevo detto Fatelo Prima che Salga E vi devo dire È molto Bene Molto Bene Se uno C'ha modo Di rimediarlo È una cosa Molto Consigliata Le fusioni Non costano Niente Chaos Angel Typhoon Insomma Al momento Non è che Siano Troppo Economici Però Secondo Me Qualche Cosina Pure Di XRX Si può Fare Se ci si Lavora Bene Vuole Essere Un Ottimo De Poi Yubel Ancora Yubel Non è che Ci abbiamo Più Tanto Da Vedere Un po' Di Port Unchained Cambia Nella Beacony Beast Viene giocata Di più Vengono Messi Qualche Bestial In più Insomma Non è che Cambia Troppo Anche Qui Vediamo Un po' Un attimino Bestial Ci giocano Ibiru Triple Beacony Beast E non Cambia Troppo White Forest Con Runic Non Existando Un po' Impiantato Al momento E' Interessante E' Molto Interessante Perché Comunque Hai un reparto Syncro Che riesci a Farti Con Quei pochi Mostri Che hai Buono Hai Sempre Modo Di Averci Un Mostro In Più Comunque Con Le E' Sincro Che Puoi Farlo Attorno All'op Molto Interessante Reparto Syncro Niente Di Troppo Esagerato Mazzo Che Costa 300 Mazzo Che Costa Però Vi Devo Dire Tutto Sommato Non è Per Nulla Una Scelta Bruttissima Giocarla Così Effettivamente Con Tutto Questo è Ne abbiamo Questi 50 White Forest Sempre Con Runic Ok C'ha anche Chicken Game C'è una roba Interessante Memento Che C'ha Dei Prezzi Esorbitanti Con Fismith Che Gioca Anche Piccolo Reparto Unchained Memento Fismith Unchained Eh Però Interessante Interessante C'ha anche Una side Carina Lo apriamo Fire King Ok E Poi Sempre Jubel Fismith E Per concludere Tempare Capito Vediamo Questo Runic Perché C'ha Upstar Gobin Chicken Game E Metal Force Fusion Fine Metal Force Senta Il Cimitero Ok Va Bene All'altra Non è neanche Troppo Male Perché Comunque La Rimetti Nel Mazzo E Peschi Se C'è Là Il Cimitero Però Effettivamente Così Non è Che Te la Dai Un Pochino In Faccia No No Perché Comunque La Mandi Via Se Comunque Non Sfruttiamo Le White Forest Che Al Momento Non Vedo Messe Nel Deck Cioè 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 Preferiscono Giocare Questa Che Magari Una White Forest Che Si può Risettare Per Per Andare Qui Preferisce Più Andare a Pescare Le Carte E Ok Non è una Cosa Che Mi dispiaccia Troppo Perché Infine Per Fare Questa Anche Per Triggerare Questo Effettivamente Mandi Lei Peschi Peschi Oppure Fai Special Insomma Quindi Peschi 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 Va a finire Che peschi Tutto il mazzo Quasi Non dico Tutto il mazzo Quasi Però Effettivamente Può essere Una cosa Molto interessante Giocarla Anche In questa Maniera Quindi È interessante Anche Questa Roba Qui Ci sono Delle Cose Interessantissime Effettivamente Allora Qui Abbiamo E vedete Chi sa Ed ci stanno Secondo me Almeno Queste Qui Poi Che il mazzo Costi Quasi Mille euro Che Non Non mi Agrada Particolarmente Però Va bene Abbiamo Anche Ibli Che Effettivamente Può Essere Una Cosa Molto Molto Interessante Perché Tra l'altro Il mazzo Giocca Tanti Link Va bene Si può Giocare Sempre E E può Bloccare In sostanza La roba Dell'oppo Può Bloccare La roba Dell'oppo Qual Solido L'importante È blocare La roba Dell'oppo Va bene E poi Vabbè Fisbit Ovviamente Bistial Bistial Si Di tutti Di più Eh C'è tanta Roba C'è tanta Roba Qui Cash Tira Snake Parking Triplo Mix Silhouette È molto Giocato Effettivamente C'hanno Praticamente Tutti I mazzi Vabbè Cash Tira Sempre Con la Cosina In più Ok Anche Perché Banna Anche Di base Quindi Oh C'è Un Pick Up Interessante Il Pick Up Sai Vedo Piene Gate Con Delta Gamma In sostanza Va bene Non c'è tanta HT Per parare Va bene È strano Che comunque Non tutti Giochino Trust C'è perché Io mi immagino Che comunque Non è nella Versione Budget Del mazzo Va bene Va bene Ci può stare Ci può stare Poi Uh Pendulum Magician È interessante Pendulum Magician Ando a un botto Che non si vede Quindi abbiamo Ritual Beast Che abbiamo visto Comunque Fa le sue cose Questo c'ha Il Protoss E anche L'altro Quindi andiamo a vedere Un attimino Perché può essere Interessante Labyrinth Yubel Ok Cerchiamo sempre Di andare a vedere Comunque le soluzioni Un po' più Interessante Ma che ci sono Vediamo Assolutamente Find room Magician Assolutamente Si Tenpai Con Buster Blader Mi pare di aver Visto E lo vediamo Allora Ritual Beast Ok E mette Decide Esca Toss Gliari Un tipo Di mostro Distruggi Di mostro Con quel tipo Vabbè Effettivamente È un po' Situazionale In determinati Contesti Però ci può stare Metti Dici Drago Voglio dire Fai il panico Quindi Va bene Tanto Non si può Neanche Distruggere Da solo Quindi Va bene E poi Blocchi In sostanza Puoi bloccare Anche tutti Tenpai Va bene Va bene E poi Ritual Beast È già di base Lo sappiamo Molto forte Quindi Ok Non è che Cambia tantissimo Carte A 40 A 40 40 gradisco 40 gradisco Bene Bene Semplice L'inare Vankish Soul Con cash Tira Ovviamente Ok Vabbè Carsi Tira Da un po' Più di Verde La Gravekeeper Ogni tanto Ti vedo Ogni tanto Non tantissimo Però ovviamente Giocati Sprite Per fare Wombo Combo Allora Vankish Soul È interessante Il problema Che Doveva fare Il panico Non l'ha Fatto Questo Panico Ha delle Carte Che sono Di effetti Abbastanza Forti Però Non è Stato Più Supportato Praticamente A niente È rimasto Con non solo Link Di archetipo Quindi Al momento Ha fatto Una buona Top Top 4 Molto buona Perfettivamente Vankish Soul Ha dei limiti Importanti Super King Pendulum Magician Ecco Qui Ritorniamo a fare Un discorso Sui pendoli Che è Sempre Scusate 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 Non può Targettare Il mostro Incantatore Con trappole Targetti Magician Pendulum Nella zona Mostri Pendulum Una carta Loppo Distrugge Entrambi Ok Poi se questo Effetto Non ha distrutto Due carte Possiamo Nella carta Al terreno Al cimitero Ti devo dire Fortissimo Ritorniamo al discorso Dei pendoli Ovviamente Sono Molto Forti Ultimamente Non più Ormai Quindi Ridare Electromite Potrebbe dare Un pochino Più di verve A questi deck Che ormai Non è Si possono fare Determinate Full combo Negate Ma non è anche Troppo Perché non ci arrivano Più Non hanno modo Più Tanto Come prima Di Riciclarsi Quindi di Farti venire Gli incubi Perché io mi ricordo I tempi Pure se ero Molto Erano Insostenibili Ai tempi Il solito Discorso È che ormai Sono stati Interfati Abbastanza Fanno le loro cose Possono essere Sia forti Che neanche Troppo forti Dipende Perché delle cose Più importanti Le fanno Le board Con dei negate Le fanno Però certo Sono facilmente Contrastabili E Soprattutto Ora che puoi giocare Tanto nel turno Nell'oppo Hai modo Comunque Di interagire bene Quindi Io Ripeto Un Electromite Al mazzo A questi vendoli Glielo ridarei A limite Si ribanna Voglio dire L'hanno fatto Con Snow Hanno provato Rimetterla Poi l'hanno ritolta Perché non provare Con Electromite Buster Blader Tempai Buster Blader Tempai Che vabbè Fai la Bombocombo Equip Che blocca L'oppo No Se viene Equipato Non c'è più La bombocombo Buster Blader Forse mi sto No Allora c'è Buster Dragon Che Bastardo Maledetto Che Li rende Tutti Draghi E ok E va bene Allora Sono un attimo Curioso Vediamo Un attimo Abbiamo Trap Track Trighetti Un mostro Il cotturale Spacchi E 7 Una trappola Può essere attivato Questo Ok Possiamo Attivare Sottanto Una trappola Abbiamo Tutta roba Per prenderci Queste Trappoline Qui Ok Buster Mi fa Il Buster Dragon Tranquillamente Con questa In modo Che puoi Fartelo Immediatamente Ok Ok Va bene Serve tutto Per farti Immediatamente Il sincro Con il Buster Blader Fusione Immediatamente Il che Può essere Una roba Molto Interessante Questa Dagna 1000 E ok Cava Tutta la posizione Draghi Difesa E ok E non possono Attivare I loro effetti Quindi in sostanza Puoi fare Un Buster Blader Immediato Che può Bloccare Immediatamente Tutti Draghi E poi Può andare A ottica Appare E' interessante E' una versione Di Tenpai Molto interessante E' incredibile Che io debba Rimettere Un'altra volta Il Buster Blader Però Va bene Così Perché effettivamente E' una combo E' una combo Interessante Quindi Non male Non male C'è un bel po' Di fantasia Effettivamente In determinati Decks Zephyros Elite E qui poi Abbiamo un movimento Kimera Pure Rikimera Tempai Yubel Runik Yubel E questi Sono americani Non manca a dire Che comunque C'è Scusate San Antonio Albercchi E poi Altri Comunque Non sono Propriamente Americani Va bene Qui c'è anche Un Drago Ruler C'è C'è un materiale Determinati Determinati Anche Red Raptor Arsenal Falcon Ok Che ti consente Di evocare Anche questo In sostanza C'è un altro Extenderino Ok E' interessante E' un altro Mazzu Che comunque Può avere Una Sua Fisionomia Ci sono Delle soluzioni Molto Interessanti Abbiamo visto Della roba Carina Molto Carina Certo Abbiamo visto Ovviamente Sempre Determinati Deck In alcune Situazioni Però Altre Altre Soluzioni Interessanti Quindi E' un peccato E' un peccato Che il motore Fismith Continua ancora In perterrito Abbiamo visto Poco Snake Eye Questo è vero Ma comunque C'è C'è tanto Yubel E un bel po' Di memento Sia con Fismith Sia senza Quello senza Va bene Perché comunque Interessante E quello con Fismith Sappiamo Che è sempre La stessa combo Ecco Come dicevo C'è sempre Una cosa Del mazzo Pi' forte Nell'engine Pi' forte Che va a ruvinare Un pochino Di cose Perché effettivamente Di cose Interessanti C'erano Un ritorno Di White Forest Comunque Return Abyss Che è tornato Pi' forte Quindi Bene C'è quel Sprite Che non mi piace Per niente C'è anche Tierlamens Tierlamens L'Iceworld Però Quello È un po' Mixone Però Comunque È un qualcosa Di diverso Per dire Con Thunder Dragon Che è tornato Con Left Arm Offering Che comunque vai a bandire Per attivare gli effetti Di roba ce n'è Di roba ce n'è Veramente Tanta Quindi Vi devo dire Molti giocatori Che vanno di fantasia Ci stanno In determinate In determinate volte Quindi Non vale Detto questo ragazzi Fatemi sapere voi Cosa farei pensare Ovviamente Noi Come sempre Ci vediamo In un prossimo video E Un saluto a tutti Sì 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 Sì